Alle nozze di Gigi Buffon con Ilaria D'Amico manca solo un dettaglio. Il divorzio da Alena Seredova. Il portiere della Juventus fa coppia fissa con la giornalista da quattro anni. La sua ex felice è innamorata al fianco di Alessandro Nasi. Eppure per ci il calciatore possa sposare la nuova compagna mancano ancora alcuni passaggi burocratici. Sar senza annunci e senza clamore aveva detto l'adamico. Come racconta il settimanale Spy. Al grande passo manca solo il divorzio effettivo tra Gigi e Alena. Eppure gli altri dettagli per le nozze ci sono tutti. A partire dall'anello al dito di Ilaria. Quest'estate ci è stato anche un incontro spirituale con il sacerdote della chiesa toscana in cui si è celebrato il battesimo del figlio della coppia. Leopoldo Mattia. Che il matrimonio ci sarlo ha confermato anche l'adamico che ha anticipato che sarla. Celebrazione intima di un'unione che giscambio di tutto. Amore per i figli. Passioni comuni. Aiutarsi nelle cose di ogni giorno. Adesso mancano solo le carte. Ma a dire è se sar. La seredova. Altro su MSN. Gigi Buffone e Ilaria d'amico presto sposi. Rai Play.